Buongiorno a tutti e buon anno! Rieccomi qui con il mio appuntamento creativo con IUPLA Craft e per questo mese, per il mese di gennaio, ho pensato, visto che siamo ancora all'inizio di questo nuovo anno, di questo 2023, ho pensato di fare un progetto proprio legato a questo inizio e a questo percorso che ci aspetta e il mio pensiero è andato quando vivevo in Marocco e vedevo spesso dei camion pieni pieni e colmi di robe da trasportare quasi che non li reggevano. Allora ho pensato ma perché non fare un camioncino un carico di buoni propositi per questo anno, quindi buoni propositi per il 2023. Allora ho realizzato questo piccolo camioncino utilizzando i camioncini di IUPLA, eccoli qua, colorati con le matite colorate, sono dei piccoli cartellini, eccoli qua, dedicati ad ogni mese dell'anno, dicembre, gennaio, febbraio, sinistra da gennaio, febbraio, marzo, aprile, sino a dicembre. I miei buoni propositi e come l'ho realizzato vedrete il mio mini video dove vi faccio vedere come l'ho realizzato. Ciao e buon anno e buoni propositi! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.